Sarà un'edizione incentrata sul tema dell'immaginifico, quella del Festival d'Annunziano che torna per il quarto anno a Pescara e dal 3 all'11 settembre all'Aurum, al Teatro d'Annunzio, in Piazza della Rinascita, alle Naia di Musei e in altri luoghi identitari della città, ci saranno concerti, presentazioni di libri, convegni, reading, eventi sportivi, mostre e proiezioni cinematografiche. Il programma però potrebbe raddoppiare se arriveranno i finanziamenti promessi dal Ministero della Cultura, come hanno annunciato gli organizzatori. Tra i protagonisti ci saranno i cantanti Achille Lauro, Mario Biondi, Bruno Rissas, Sergio Cammariere, Beatrice Venezzi, Alessandro Preziosi, regista Enrico Vanzina. Saranno nove giorni dedicate al Vate, nel segno dell'arte, della musica, dello sport, della gastronomia e della cultura e il festival si aprirà il 3 settembre al Museo Paparella Treccia de Valais con l'inaugurazione della Mostra de Chirico e d'Annunzio e con l'esposizione dell'Opera di Boccioni, forme uniche della continuità nello spazio. Alle 21 in contemporanea al Teatro d'Annunzio si terrà il concerto del Conservatorio Taci, Odi, Ascolta, cento anni della Corporazione Luisa d'Annunzio, mentre all'Aurum sarà di scena lo spettacolo teatrale Terra Madre, diretto da Federica Vicino con testi di D'Annunzio. Domenica sarà lo sport a celebrare il Vate con la regata d'Annunziana che partirà alle ore 11 dalla nave di Cascella. Lunedì 5 sarà la volta del Teatro di Milo Vallone, di presentazioni di libri, di un percorso enogastronomico nell'opera di D'Annunzio sui trabocchi del Molo Nord e del Porto Canale che vedrà la partecipazione dello chef Nico Romito. Martedì 6 settembre all'Aurum alle 19.30, grazie ad una collaborazione con i Premi Internazionali e il Neoflaiano, il festival offrirà una conversazione tra Enrico Vanzina e il direttore artistico della Kermess, Giordano Bruno Guerri, su Flaiano nel cinquantesimo anniversario della morte. Al teatro d'Annunzio la sera si terrà il concerto di Bruno Rissas, l'unico appagamento dell'intero festival, mentre alle naia di si terranno i campionati del Mediterraneo Under-23 a cura della Federazione Italiana di Atletica. Attenzione particolare sarà riservata alla figura di Eleonora Duse alla quale saranno dedicati lo spettacolo teatrale di Daniela Musini in programma all'Aurum domenica 4 alle ore 21 e il processo previsto alle 20 di domenica 11 che alle 19 sarà preceduto dalla presentazione di Ammiratrici di Eleonora Duse il libro di Maria Pia Pagani con Franca Mignucci. Mario Biondi si esibirà martedì 6 settembre alle 21 in Piazza della Rinascita e il giorno successivo sarà la volta di Achille Lauro. Giovedì 8 all'Aurum Beatrice Venezzi dirigerà l'orchestra ai solisti aquilani. Venerdì 9 al teatro d'Annunzio il cantautore Sergio Camariere sarà accompagnato dalla Angelo Valori and Medi Torxtra mentre sabato 10 sul palco saliranno Enrico Melozzi e Alessandro Preziosi.